Presidente, quando è venuto al corrente di questa grave situazione? Poi parliamo anche di quello. Stamattina, adesso, ho preso notizia, non ci credevo, pensavo sinceramente che era uno scherzo. Sono rimasto turbato. Turbato perché nello sport queste cose non hanno giustificazione alcuna. Sono l'espressione non corretta della massima demenzialità delle persone. La mancanza del genoma, dell'intelligenza. Sempre un problema di genoma per lei. Non sto scherzando, così lo traduciamo. Genoma è intelligenza. La mancanza di intelligenza. L'intelligenza sportiva, ma ancora prima civica e soprattutto di vita. Queste cose non sono né tollerabili, né giustificabili, ma neanche fattibili. Secondo lei chi può fare dei gesti, compiere dei gesti del genere? Sicuramente sono delle persone. Non sono dei fantasmi e non sono neanche degli extraterrestri. Sono delle persone che non hanno capito cos'è il calcio. Non hanno capito cos'è lo sport. Non hanno capito cosa sono i problemi, non hanno capito cosa sono le circostanze di tempo e di luogo. Sono solo una distorsione del calcio, una distorsione dello sport. Loro facendo così cosa pensano di fare? Il bene o il male? Ripeto ancora agli autori, il bene o il male? Ci metto la faccia io. Non per quanto, per come. Anche davanti alla barra, perché io sono stanco. Sono stanco, stanco, stanco. E adesso occorre, ma per tutti, la massima obiettività. Perché tutti hanno concorso a questa cosa. Tutti. Tutti che? Tutti. Notizie storte, bare, bare corte, bare lunghe. E qui riprendo il giochino. Ha visto qualcuno, quando dicevo, quando dicevo, prima di gridare al morto, bisogna avere il morto. Ha sbagliato la lunghezza della bara. Perché quando ci sono dei problemi, quando ci sono delle circostanze, non si risolve il problema additandolo e impiccandolo il morto, che non è ancora morto qua. E il morto non è morto? Il morto non è morto. Nessuno è morto qua. Oggi è morto il campo, ma lo risuscitiamo al prima possibile. Hanno fatto un disastro. Questa è l'espressione del calcio. Per carità di Dio. Questa è l'espressione delinquenziale del calcio. Del calcio. Del calcio. Occorre solo adesso un momento di silenzio, sicuramente. Noi rimettiamo in status il campo. E scusate l'espressione brutale alla faccia di quelli che hanno compiuto questa cosa. Nel tempo più breve possibile per dare senso e aria allo sport. O in maniera obiettiva. Senso e aria allo sport. Che perdiamo o che vinciamo. Questa è la mia faccia. Non ho paura. Perché lo sport non è quello. Ma non sono neanche le parole. Perché quando ci si collega con una penna a scrivere di sport, bisogna essere coerentemente obiettivi, anche critici. Anche se veramente critici. Però oggi, oggi più che mai, con la penna si alimentano. Si alimentano queste cose. Quindi la prima cosa da fare da presidente? Da presidente? Da rimetterci in campo e giocare la partita contrariamente a quello che volevano o a quello che vogliono. Alcuni, alcuni. Perché i veri tifosi non sono quelli. I veri tifosi di spalla sono quelli che verranno a vedere la partita. Nel senso di vittoria o di non vittoria. Però approvveranno il Varese. E quei ragazzi che andranno in campo lo faranno con orgoglio. Fino alla fine. Fino alla fine. Fino alla fine. Questo gradevole episodio è comunque la parte finale di tutta una serie di cose che non hanno funzionato. Sicuramente questa è una roba, sappiamo tutti, da condannare. Completamente diversa da altre cose che sono successe. Però è proprio un percorso di cose che accadono qui a Varese veramente gravi su tutti gli aspetti. Questa è indubbiamente la peggiore, diversa da altre. Però si sta andando veramente male. Situazione drammatica. Ma guardi, mi vede con la faccia spaventata, no? Solo un po' turbata. Turbata. Ma per un senso di legittimità, di libertà. Solo per questo. Adesso ci vorrebbe veramente il senso civico. Vedo che non lo sta usando come termine. Ma io, allora, quando mi avete preso, fra virgolette, in giro, ho usato un'espressione, ma non filosofica, vera. Ho detto il bene. Questo è il bene. Il bene vuol dire curare, stare vicino, sostenere, rafforzare, dare rigore, dare orgoglio. Ma questo non è avvenuto. Allora, chiudiamo, guardi, guardando in camera, rivolgendoci, che sicuramente guarderanno questo servizio a coloro che hanno fatto questo scempio, gli dica quello che pensa. Ma guardi, non c'è pensiero, non c'è sicuramente alcuna giustificazione. Non do neanche un senso di condanna perché non sono io che devo condannare gli autori di questo fatto. Le giuste valutazioni, le giuste considerazioni verranno espresse dai veri tifosi che seguiranno e seguono il Varese nel bene e nel male, in una vittoria e in una non vittoria, in una decalation e in un successo. Questo è lo sport. Questa è la libertà. La libertà di ognuno deve concidere con il bene dall'altro. Questa è quella che si chiama capacità morale. Se il mio bene concide col tuo, allora vuol dire che noi abbiamo capacità morale. Se il mio bene non concide col tuo, non abbiamo questa capacità che non si acquisisce con la nascita, non si acquisisce con il diciottesimo anno, si acquisisce solo con questo, con l'intelligenza e con il costume sociale. Il costume sociale è lo sport che vuol dire libertà di gioco. Vincere o perdere è sempre una libertà di gioco. Questo schifo, perché è uno schifo, non doveva succedere. Lo hanno commesso, peccato, ci hanno dato nuova forza, nuova rigore. Loro, loro oggi, oggi, devono solo, solo, vedere una cosa, la partita. E mettere la faccia, mettere la faccia e venire. Perché è facile venire e fare i puledri a scasso. Ma se verranno beccati, allora è giusto che abbiano la giusta posizione, la giusta punizione e le giuste considerazioni. Perché i veri tifosi questo non lo volevano. Questo non è il bene. Questo qui è il male. È il male. E Varese non è così. Varese ha una capacità, un orgoglio, una moralità che loro manco se la sognano. Questo il genoma, l'intelligenza, ce l'hanno sotto i piedi, non sopra. Sotto i piedi ce l'hanno. Questo. Sotto i piedi ce l'hanno.